Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Willy J ed oggi siamo qua ragazzi su FIFA 15 con una stagione cop in compagnia di Dark Gamer, fai un saluto? Bella bella a tutti ragazzi E siamo qua con questa squadra che non so che squadra sia ragazzi PSV, la scelta lui, chiedete lui E sono tutti buggati, allora l'abbiamo scelta apposta Mamma mia, cioè, la strana, ho pure guadagnato un trofeo, a caso ragazzi Senza fare nulla Allora, io chi sono? Il rosso e il blu? Il blu, il blu, il blu Il blu a stella, giusto Mamma mia ragazzi, cioè, per avviare sta partita ci è voluto anni e anni Errori su errori, non potete neanche capire Ci abbiamo stato due anni e mezzo ragazzi, cioè, che cazzo è successo? Ho avuto paura che fosse rigore Eh, anche io, per quale motivo non lo so, però vabbè Ma dove va? Oh, ma perché? Oh! Via! Ok Spazza, spazza, spazza Vai, ce l'hai te Il mio scatta, scatta, vai in porta, vai Dai, Wijnaldum Vai, vai No, non ci credo Non ci credo La concentrazione totale E poi, guarda, quello è caduto Non ci credo Era, era in... Cioè, sembrava dentro Stavo dicendo il gol Mamma mia Che cavolo è? Ah, Lione Non avevo neanche capito che squadra aveva sto qua Oh, Lione Oh, Lione Derivativo da coglione Ecco cos'è Mamma mia, vai Ma insomma Ci sono certi giocatori che sono stralenti però Eh, mamma mia Tipo questo che sto pilotando io ora Mango il caccia militare Va così lento, guarda Allora Devo trovare un metodo per riuscire a rubare palla a questi tipi qua No, no, no Ok, dai, vai Ma che cazzo No, no Il ricorre per cosa? Dai C'era il presentimento Ancora non l'avevo manco in controllo Ha fatto tutto Dai, regà Non ci credo Dai Non ci credo Cioè, ma veramente Chi è il portiere che deve parare? Eh, facci No, sono io, no Sei tu Mamma mia Incentrazione Centrale Io non parlo Ma io, ma, ma, serio Ma, ma, cos'è Stiamo scherzando, eh Non è possibile Vai, vai, vai Vai Ti ho visto Ti ho visto No Eh, sì, col cavolo Ma hai visto Ma non già arriva Con quale elevazione, però Vai, vai, vai No, murato Madonna Sì, ma questi ci pressano in tre No No Fermalo Questo è proprio una merda Allora, però Non mi dire che Buona È fuori Perché? Perché? Perché Che cosa è successo? Perché è successo il fallo? Ma perché? Ma perché? Mamma mia Io non lo so Ma Dopo due ore Me lo segna il fallo Fammi completare la relazione ormai Mi sa che era fuori gioco Non era fuori gioco Da poco Mamma mia Blocchiamo quello centrale Ecco Uh, bene Prevedibile Era prevedibile Che crossava in mezzo Passava in mezzo O crossava Quello che cavolo ha fatto Carcio d'angolo No Vai Sei da solo Cioè No Vaffanbro Ma dai Perché è così? Sì, vabbè Ma che cazzo Il mio Il tuo passaggio Ci arriva Ma la manda a Milano Il problema è questo Cioè Fermiamolo Eh, mamma mia Che cavolo è? Dai Ti rendi conto? Guarda Pure è caduto a terra Il cevrole là dietro Gli è morto dietro Gli è morto dietro Gli è morto Gli è morto dietro Dai Non ci credo Il portiere è rimasto immobile Il portiere è No, abbiamo un portiere Che veramente La squadra può essere Buggata quando mai Ma il portiere Guarda il mio Che fa i passaggi Della madonna qua Uh, dai Almeno uno L'abbiamo fermato Almeno Beh Se ora mi fischia il fallo Cos'è? No Mi sembrava Guarda Ma perché? No, no Cosa succede? Cosa sta succedendo? Dica che cazzo Cosa succede? Il mio Si è messo in mezzo Per levarti palla Ma ne ha senso Che competizione è questa? Che competizione è questa? Che rubate palla Mamma mia Questa dovrebbe essere La squadra coppia Che rubiamo le palle La nostra squadra La coppia sei tu Si è visto Mamma mia No, non è fallo Sia tranquillo lei Si, si Non è fallo Sei caldo Se attacchi pure le mie mutande Sia tranquillo Si, si Non è fallo Non è mai fallo Anche nell'ultimo Road to division one Ragazzi Cioè M'hanno devastato Alla fine Non era fallo Vabbè Dai però ce la meritiamo La partita Eh diciamo Un po' di sì Dai perché I nostri giocatori Si rubano palla a vicenda Quindi non è che sia La migliore cosa Da fare Per una cooperazione Non possiamo farci niente Se ci abbiamo Ma guarda Non si intendono Proprio Non si capiscono No, no È una cosa Cioè sembra una squadra Dell'oratorio Sembra però Cioè Squadra improvvisata così Parole sante Mamma mia Cioè Se tutto FIFA Dovrebbe essere In cooperativa Guarda Sarebbe un devasto Prendi la palla Ma che fai il mio Sta fermo La guardare Ho ammaccato quadrato 200 volte Ragazzi No dai Dai vabbè Guarda il portiere Guarda il portiere Il portiere è andato lì Per farciarlo Non per prendere la palla Cioè lui è andato lì Boom Travando Guardalo Guardalo Popofiero è uscito È arrivato Non prende la palla Ma guarda Ma poi in ritardo No, no Guarda io Dai Dai Io non la so Questa squadra C'ho vinto un casino di partite Beh Ora Non vince più nessuno Questa squadra Sei ubriacata Corri Fantastico Eh no Ma scambiato il guardalinea Sai Vai vai Dai buona No Ma che cazzo fanno Niente Proprio zero Mamma mia La guardata Le ho detto salve Mamma mia Ma poi chi è questo Rocky Quello che gioca contro di noi Si chiama Rocky Ma dovrebbero essere anche loro in due Se non sbaglio Infatti quindi Se non sbaglio Fuori gioco Non è fuori No, 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 no Vai Vai, 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 vai Vai, sono centrale Ce la puoi fare Forza a fare un bel classicino No, era per Non ci credo No, è assurdo Regà Sto FIFA Buggato Assurdo Eh I falli non condano Condano solo Le manate Se gli tocchi il culo Boh, vabbè Io non lo so Grande T'ha devastato la testa Probabilmente però Completamente a caso La presa Eh sì Perché quando tu vuoi fare Vai 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 Tira No Quanto è lento Quanto è lento Quel giocatore Ma non puoi essere così lento Non puoi essere così lento Dai Guardalo Siamo dovuti andare in quattro Per riuscire a fargli la parola al portiere Uh Qui sono Vai Vai No mamma mia Troppo lunga Troppo lunga Era lentissimo Se magari era Cristiano Ronaldo Canneava più veloce No Dai Vai Io non lo so Perché non ha preso la palla Oh Cos'è sto contrasto di merda Mamma mia Guarda Non la palla Non è che la vogliono prendere Guardalo No mamma mia No dai Mamma mia No Non ci credo Quale portiere Ma 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 che Ma che portiere abbiamo Oh È il portiere dell'ex Vai 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 Corri Ma non corri Ma non corri Sto portiere Dov'è che sono Ci ho visto No Come l'ho stop Fat male Mamma mia Ma che stop aveva quello Lo stop dell'autobus Dai Non ci credo No Non mi dire che è gol così No Mamma mia Ma la cosa bella è che fa separate Quando stiamo già perdendo 3-0 Non è che poteva farle prima No Eh sì Ma quando perdi 3-0 comincio a giocare bene il portiere Mamma mia Dai dai Almeno un gol lo dobbiamo fare Regà Boom Tira Ho schiacciato Non tirano È un vitello È un vitello È un vitello C'ho pure quello ammazzato là Me l'hanno ammazzato a furia di falli È un vitello Gol Mamma mia Mamma mia Regà Io vado Ciao Ci vediamo nel Ciao Fra 90 anni Non è possibile Non è possibile Guarda Guarda va Il gol del merda Il classico gol di merda Non è possibile Niente È assurdo Prova Stiro spenderato Giusto per far vedere Nelle statistiche Che abbiamo fatto un tiro Perché Eh infatti Cioè Non tirano Non tirano Gli omini Non tirano O abbiamo i paderotti No impossibile L'ho preso un mese fa Gli altri son rotti Però C'è quel vitello lì in attacco Non si può vedere Non si può vedere Non va a tirare Un vitello assurdo No Non tirava Ma guarda Guarda Ora mi fanno vedere Tutti i gol Che hanno fatto De merda Guarda Guardali Guardali C'è sto portiere Proprio Zanghe te Mamma mia Cioè eravamo Cominciati bene Ma poi Siamo andati male Io cambio No cambiamo squadra Però perché Non si può vedere Una cosa così Non ce la faremo mai A vincere con una squadra Del genere Mettiamo il Real Madrid A caso Allora Perché c'era scritto Due di tre Non lo so Occhio Ecco già Ecco ecco Cominciamo bene Cominciamo benissimo Dai Cosa vuol dire Quella roba lì Quell'intervento di merda Siamo contro La razza Siamo Vai Noi abbiamo un difensore centrale Che sarà così Buona No Cosa fa Chi ti ha detto di tirare Ma dai Ma va esplodi No raga No 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 Cioè Chi cazzo gli ha detto di tirare Non avete Cioè veramente Sì ma passano anche domani mattina Che tanto ci abbiamo un po' di tempo No Sì sì C'è il tempo Possiamo Possiamo giocarci La final una di notte Tanto tranquillamente Guarda Facciamo 40 ore di video Cos'è Cos'è Cosa vuol dire Oh oh Prendiamola Ce la facciamo No Non ce la facciamo Non è impossibile Ma guarda che difensore Però Ma che cazzo Che cazzo è Non ci credo mai Guardalo Guardalo Va Non ci voglio credere Cioè Ma cos'è Ma perché Cos'è Ma perché Dimmi perché È la passata lì Non lo so Dillo tu perché Perché il giocatore Ero tuo Quindi Però io un perché Ce l'avrei Bug di fifa No Rosso No Rosso Ora ci dà il rosso È rosso È rosso È rosso È rosso Si vede che già ce l'ha pronto Guardalo Madonna mia Nicolás Lombardes Mamma E vabbè Ci stava il rosso Però Scusami Tutti quelli che ci fanno a noi Faccio sconto Dai Ma non ci ha mai fischiato una punizione O fuori gioco Sennò punizioni non abbiamo battute Mai Mai Un angolo abbiamo battuto In tutte queste due partite Quello che si toglie dalla barriera Non si può vedere però Oh posso cominciare Vado Ciao mamma Mamma mia Dai Dai non l'ho passata Mi hai trattenuto Niente proprio No guarda il portiere Cosa fa il portiere Cosa fa Cioè La prende E poi la salia Guarda No Cos'è Sta laggando pure il mondo Mamma mia La tua voce è iniziata a laggare Come l'ha presa Dov'è A chi la passa Oh ma a chi la passa All'allenatore la passa Ecco a chi la passa Dove va Perché mi ha passato là Invece di dritto Vabbè va No non la prendo Mai Goal Goal Finalmente Che gol Della madonna Con Garai Difensore centrale Che la prende al volo Grandissimo cross Di dark Mamma mia Mamma mia Garai Finalmente Con Garai Dobbiamo segnare Mamma mia Ho dato una manata All'armadio Tra l'altro Che mi sono ucciso Che mi sono ucciso la mano Però questi sono dettagli Un tiro in porta Un tiro in porta Ben fatto però No fino a primo tempo Un tiro a un gol Ora questi devono cliccare X Però si devono sbrigare Se no ci rimaniamo qua Vabbè Cos'è Cos'è dai Dai vaffanculo Ma per l'altro di col di merda Prendiamo però Ma non si può vedere Guarda Pulisci le mele Pulisci Dai Che godai Guardalo Vabbè mi accontento anche di un pareggio Sai va Tanto Io sai che Se dissi Dobbiamo accontentarsi di un pareggio Eh si Con st'attaccanti che abbiamo Guarda Però non schippa lui Guarda che cazzo ha No devo guardarsi la reazione dei tifosi Perché è fondamentale Oh Oh Ma dai Che cosa Oddio Oddio Ti rendi conto Guardali Mamma mia Meno male che ha preso palo Va Se no Troppo lunga Uh Vai Vai Cosa fa Perché di tacco Dai Perché di tacco Perché di tacco Perché È andata a fare la cosa più difficile È andata a fare Vai prova Vai Tira Tira Niente raga Io Non ci arrivano Non ci arrivano Non ci arrivano Ma cosa fa Sto pelato Allora O salta troppo O non salta per niente Si deve decidere Per se Ma perché quello là Prendila 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 Dai prova Dai prova Prova È una buona occasione L'angolo Prova Dai che ce la possiamo fare Si Goal Mamma mia Buono Mamma mia Garai Stavolta è garai Stavolta è garai Mamma mia Goditi il gol Pezzo di merda Mamma mia Ah Mi è uscita pure la spalla Fuori dal mondo Mi fa male la spalla In una maniera incredibile Non so perché Aia Mi fa male qua Chi ti amo vai Cos'è successo Non mi dire che qui sta Che fanno Via Quelli Vai vai Magari riusciamo a vingere Magari Dai Vai Vai Magari 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 Grazie arriva Perché devi fare così Vai Vai Si Si Al culo Vai Al culo Vai Al novantesimo Vai Perciò un sponso Mamma mia Non me l'aspettavo Difenziamo Difendiamo tutto Difendiamo Oh Oh no 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 Regà Non ci credo Dai 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 Facciamo il 4 Facciamo Vai Vai Facciamo il 4 Magari Magari Pure Ora No Dai Possiamo Possiamo provarci Si possiamo provarci Dai Ecco dai Finisce qua Dai Mamma mia Ragazzi Una partita La prima partita Deludente La seconda partita Piena di emozioni Ragazzi Mamma mia Assolutamente Assolutamente Epico Guardate C'è Oh mio dio Con un giocatore in meno Primi 3 punti Ah Primi 3 punti Dai Per la divisione Dobbiamo fare 10 punti Per arrivare a promozione Divisione 4 Si Ok Non so di si Non so di si Mamma mia Assurdo E va bene ragazzi Io spero Appunto Che questo video Vi sia piaciuto Troverete il link Del canale Di Dark Se volete Passarci appunto Il prossimo Episodio Sarà sul suo canale Quindi Iscrivetevi al suo canale Per Per vedervi Per non perdervi Il secondo episodio Comunque Quindi fai un saluto Ci sentiamo Al video Se passa Appunto Dal mio canale Ci Appunto Vedrete Il Il video Del continuo Di questa serie E niente Lasciate i saluti Bella Ragazzi Quindi Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Passate dalla pagina di facebook Che la trovate in descrizione Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E noi ci rivediamo Ad un prossimo video Bella ragazzi Vi